Carciofi alla Giudia è la storia d'amore tra Rosa Maria e David, una agnostica cattolica regista teatrale e un ebreo tripolino osservante e commerciante. Questa storia d'amore è contrastata un po' dalle famiglie, ci sono un po' di pregiudizi dall'una e dall'altra parte, ma Rosa Maria è una donna che combatte anche per l'amore e per i suoi ideali e va a parlare con il rabbino perché suo figlio sarà circonciso, almeno David vuole così, anche se il bambino non sarà ebreo perché lei non è ebrea. Accetta le regole della cascerutta anche se sua madre Giovanna la contessa perché preferisce una matriciana oppure una carbonara con la pancetta con il guanciale. In tutto questo c'è anche la crisi economica che attraversa l'Italia, c'è un fratello che ha fatto perdere le sue tracce, ci sono aziende che sono fallite, però c'è anche un ottimismo, l'ottimismo di cercare di combattere e di far uscire il meglio anche nelle difficoltà. Questa quindi è la storia che poi si corona attraverso madre e figlia che cucinano insieme i carciofi alla Giulia.